Prodotti genuini e di qualità Donnarumma Catering Lavorazione e trasformazione carne bovina, suina, carni bianche Prodotti stagionati, realizzati con massima cura e professionalità Salsicce, salame contadino, soppressata, capicollo, pancetta, guanciale Commercializzazione di formaggi stagionati Prodotti ittici, congelati, verdure congelate Donnarumma Catering Punti vendita a Prignano, in piazza San Biagio E ad Agropoli, in via Alcide De Gasperi Per informazioni 0974 83 15 47